Ciao a tutti, questo è un altro match di Winner Quarters tra M32 e Wizog Vedremo, hanno già giocato a uno scorciato del Neo in cui M32 ha vinto Non ricordo il game record ma mi pare abbastanza dominantemente Vediamo se questa volta Wizog riuscirà a dare la sua vendetta Wizog è giocato del Staniero che vive qua per un po' di tempo Captain Falcon Main, vedremo adesso come se la caverà contro M32 Attualmente il secondo giocatore in Toscana, secondo il piede toscano Vedremo comunque, il match sta iniziando in maniera abbastanza even Falcon si è preso già una buona quantità di danni ma comunque M32 sta giustando abbastanza bene il neutral Abbiamo un buon paralyser, si trova la grab Stavolta su Dreamland, uno stage che non mi sarei aspettato sinceramente Considerando che è molto buono per Zio su Samus 1-8 a 3-dare Adesso ZSS si è trovata in un'ottima posizione di vantaggio Però riesce a tornare tranquillamente Wizog con una neutral get up in 2-jub Buona pay Vediamo che comunque è un match molto dinamico qua, si stanno scambiando molti colpi ed è passato soltanto un minuto E sono già entrambi a kill percent praticamente da qualche add di trafatti di Falcon Vediamo una grab, back throw, vediamo se riuscirà a sfruttare l'edge guard Ah, madonna! Distrutto con il knee sul down B M32 perde la prima stock Vediamo se riuscirà a recuperare Legge il jump dal bordo ma Buona roll da parte di Wizog per rientrare Ah, buon jump Tutto, beh, back rail Però trova comunque la kill con un down B Show spot Adesso la situazione torna a pari Falcon si trova una buona quantità di percento con una combo da down throw Adesso un scambio di colpi, ZSS off stage Torna al bordo, riesce ad entrare ma Comunque posizione di juggling Si sta cavando molto bene Wizog Ah, troviamo la combo di up air Lì legge il dodge ma non riesce a punirlo bene continuando la combo Trova la grab Ah, ho cercato un up smash Forse un jump cancel a pale Perché l'up smash lì dubito avrebbe mai colpito In qualsiasi situazione Trova un'altra grab Back throw Qua M32 in una posizione abbastanza brutta Dato che Si trova una percentuale parecchio alta E Falcon a 40% A meno di vedere qualche rage shenanigan di ZSS Sarà abbastanza dura Back throw Non kill ancora grazie a Dreamland Qua al bordo M32 è abbastanza in panico Potrei dire Da Questa sua percentuale altissima Sta fisciando per questi Ah, e trova il Nair down b Che porta tutto quanto Magicamente in vantaggio Per Sruzzamus Peccato perché Si era giustato molto bene Questo match Wizog Aveva ottenuto un buon vantaggio Però ZSS e ZSS Comunque Ha trovato il clutch Da fare Questo nair down b Per recuperare questo match Che sembrava Finito praticamente Per Per voi di Wizog 1-0 Vanno su Lylat Non mi aspettavo Che Questo stage Non fosse bannato da ZSS Perché Si raccava parecchio male Questo stage Però C'è un ottimo counter Comunque Wizog Sono proprio sorpreso Che non l'abbia bannato Vediamo se Andai in suo vantaggio Qua legge la doll M3-2 Però fallisce nel Nel punirla Sta facendo abbastanza Una buona quantità di errori qua Ecco Punter Invece Mi smentisce Trovare l'ottimo sweet spot Del down b Dopo il down smash In cui Questo game Sta controlando Un sacco Grazie a questa prima stock Già andata Vediamo se Riuscirà a tenere la calma E Tenere il vantaggio Fino alla fine del set Cioè a fine del game Che porterebbe la fine del set Ah Qua missa la Uuuuh Madonna Ottima riduzione da parte di Wizog Con questo Down b Cioè Questo down b Di ZSSL E letto con un down air Che porta praticamente tutto In situazione pari Una early stock Per entrambi i giocatori Un minuto E sono già entrambi alla stock Non sono abituato A un match così veloci Oddio Ottima Ottima sequenza di apay Da parte di ZSSL Adesso Falcon è ancora in svantaggio Però comunque È in una situazione Totalmente recuperabile Buon back air Da parte di M32 Recovery high Evita il jump Con una Con una roll Cerca il down smash L'omissa Buon down smash Per punire il paralyzer Adesso Falcon È una percentuale Abbastanza alta Già un back air Al bordo Potrebbe killare Trova Ha trovato Il dash attack Sword Però Ha cercato Il knee E l'ha fallito Perché non ha Trovato il head dodge Adesso Falcon si trova al bordo Buona Jab Da parte di Wizog Adesso vediamo Se riuscirà a cooperare Si trova sempre al bordo Cercano di Rollare Per rientrare In partita Trova queste Ah Ha trovato Ho trovato Lo Zay Da pro B Però Nessun pane Da parte di Wizog Vediamo La situazione è abbastanza tesa Per entrambe giocatori Adesso Ha trovato Ha cercato La hill down b Non capisco perché Poteva benissimo Trovare un up b La situazione Ah ecco il back air Che mette fine al set 2-0 Per M32